È evidente che nel mondo di oggi la democrazia, diciamo la verità, non gode di buona salute. Sì, questo ci interessa e ci preoccupa perché è in gioco il bene dell'uomo e niente di ciò che è umano può esserci strano. La parola stessa democrazia non coincide semplicemente con il voto del popolo, nel frattempo a me preoccupa. Il numero ridotto della gente che è andata a votare. Cosa significa quello? Non è il voto del popolo solamente, ma esige che si creino le condizioni perché tutti si possano esprimere e possano partecipare. E la partecipazione non si improvvissa, si impara da ragazzi, da giovani e va allenata anche al senso critico rispetto alle tentazioni ideologiche e populistiche. Grazie a tutti. Grazie.